Ciao a tutti ragazzi io sono Damio e oggi siamo qui su City Skylines nel primo episodio appunto di questo let's play E in questo let's play andremo a costruire una città fantastica spero E direi subito di cominciare Intanto vi faccio subito vedere che mod ho diciamo attivato Perché infatti durante questo episodio comunque vi dirò tutto quello che penso riguardo a sto gioco qui Però appunto queste mod qua praticamente sono solo grafiche E si praticamente sono solo grafiche quindi non è che alterno l'esperienza di gioco e tutte queste cose qua Però appunto direi subito di cominciare una nuova partita E andare a magari selezionare una mappa abbastanza carina Allora di tutte queste mappe qua a me piacciono quelle lì con diciamo l'erba abbastanza chiara Perché non mi piace vedere questa erba qui scura Tutte queste cose qua che mi mettono tristezza addosso Quindi direi di partire con magari questa mappa qui delle isole E chiameremo la nostra città Bertoch E direi subito di cominciare Allora City Skylines è uscito tipo il 10 marzo O giù di lì E l'ho comprato l'altro giorno Ad esempio cioè tipo due giorni fa E per ora ci ho solo fatto alcune partite Per vedere un po' le mod e tutte queste cose qua E sto gioco qui a me piace definirlo tipo un SimCity 2013 alla seconda Perché racchiude tutto quello che va a SimCity di bello E praticamente lo fa, lo espande e ci dà la possibilità di creare appunto tutto quello che vogliamo E quindi è veramente una figata Allora vedete questa mappa qui Allora noi partiamo da questo quadrato qua Che potremmo anche considerarlo come quello di SimCity 2013 Però tutto sto spazio attorno noi potremmo comprarlo e costruirci sopra Quindi è veramente questa la figata Allora io direi di mettere un attimo in pausa così almeno non facciamo andare avanti di tempo E per prima cosa Vedete queste strade scure? Questa è una mod Non dovrebbero essere così scure ma a me appunto non piaceva il colore delle strade vecchie Perché era troppo grigio chiaro E quindi ho voluto mettere questo colore qua un po' più scuro Allora mi avete visto fare una piccola stradina Giusto così per sbloccare tutte le strade che prima erano bloccate E appunto direi di fare una prima zona Che ci porta verso l'interno della nostra città Ok Perfetto Allora guardiamo subito un po' le cose Qui l'acqua mi sembra che scorre Ok scorre in questo verso Bisogna sapere dove scorre l'acqua Basta anche guardare tipo Ok vedete le frecce? L'acqua scorre in questa direzione Quindi dovremmo mettere La stazione di pompaggio dell'acqua Che fornirà appunto acqua pura ai nostri cittadini In una zona a valle diciamo E mentre quello lì del Dei prodotti di rifiuto Lo dovremmo mettere in una zona appunto che va fuori della nostra minimappa Allora vedete appunto qua le nostre stradine così E dobbiamo collegarle Quindi facciamo subito una cosa Ovvero Magari questa Di creare una piccola zona Già un pochetto più grande rispetto a prima Una strada un pochetto più grande rispetto a quella che avevamo prima E fare Già questo viale qui Ok bisogna fare molta attenzione a non spendere subito tanti soldi all'inizio Perché appunto Si rischia veramente di andare subito in bancarotta Quindi Non voglio fare questo rischio qua E direi di appunto creare delle piccole Intersezioni Per la nostra città Allora Qui devo farlo uno in più Così almeno siamo a posto Dovremmo cavarcela Allora Creiamo già dei piccoli layout Così per fare appunto Arrivare poi i nostri cittadini Nella nostra città di Bertoch Non so perché l'ho chiamata Bertoch Però un mio amico l'altro giorno mi ha detto sto nome E a lui piaceva Quindi boh Mi sono innamorato di sto nome Bertoch Fighissimo Ok Allora Voglio appunto fare delle cose abbastanza varie Non tutto uguale Proprio perché Bisogna dare un po' di varietà a questa città E quindi Penso che sia abbastanza importante Non far tutto uguale Proprio perché Almeno rimane un po' tutto più divertente Diciamo Ok Allora direi che possiamo già Considerare questa prima zona Una zona in cui possiamo Appunto mettere le nostre zone residenziali E commerciali Mentre la nostra zona industriale Adesso facciamo andare avanti il tempo E facciamo arrivare Diciamo i nostri primi cittadini Magari una zona commerciale qua Appunto la zona industriale dovrà essere già più lontana Rispetto a Residenziale e commerciale Perché Produrrà inquinamento E ai nostri cittadini Questo inquinamento farà male Quindi Direi di farlo Da questa parte qui Una cosa che In questo City Skylines Non c'è E' il vento Ad esempio Le industrie In City In Sim City Non Non le potevi mettere nella zona In cui il vento entrava nella città Perché sennò inquinavi tutta l'altra Tutta l'aria che Passava sopra la tua città Invece qui in questo gioco Non c'è Sta opzione del vento Quindi Già una cosa differente Poi appunto A me è piaciuto un sacco Sta cosa che si possono comprare Le zone Un po' più Le zone appunto Tutte attorno Alla nostra zona principale Perché Così almeno si può creare Una vera e propria città Enorme Ed è veramente una cosa fantastica Allora Dato che Di vento Ce n'è solo qua E queste sarebbero Le turbine eoliche Però si produce solo Un massimo di 8 megawatt Per ogni cosa Vorrei subito passare Alla centrale elettrica carbone Che produce Molto di più E E quindi ci dovrebbe Già fornire una buona copertura elettrica Per la nostra fase iniziale del gioco Quindi direi di metterla magari Da queste parti Magari qua Perfetto E qui in questa zona Fare Una zona industriale Ok Perfetto Solo che come vedete Qui c'è un alone Diciamo Un alone che ci indica Tutta l'energia E anche qua Solo che queste due 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 aree influenzate Non sono collegate E quindi dobbiamo usare Delle linee elettriche Quindi Questa cosa qua È anche Una cosa diversa Da Simcity Oddio Confondo sempre queste due cose È una cosa diversa In quanto appunto Su Simcity Bastava Solo una strada Per trasmettere Sia acqua Che elettricità Invece adesso no Dobbiamo appunto Creare anche Delle tubature Per Per smaltire I rifiuti E dare acqua A tutta la nostra Popolazione Quindi Direi che Possiamo mettere La stazione Appunto Di pompaggio Dell'acqua Da questa parte Perfetto La mettiamo subito qua Proprio All'entrata Della nostra città E questo Da questa parte Adesso appunto Dobbiamo collegare Con delle tubature Tutta la nostra zona Vedete che l'area Di Di influenza È abbastanza larga Quindi non è che dobbiamo Coprire ogni strada Però Diciamo che Facendo in questo modo Si dovrebbe coprire Abbastanza tutto Perfetto E appunto Dobbiamo ancora collegarlo A questa zona Perfetto Quindi dovremmo Avere acqua E energia Ma andiamo avanti Il tempo E vediamo appunto Cosa succede Vedete che anche Le case Sono Non so A me piace un sacco Come si costruiscono Perché appunto Fanno Tutte queste impalcature qua E Ed è diverso appunto Da city skyline Oddio Lo sapevo che mi confondevo Da sim city E appunto Vediamo che Tutta la casa Si costruisce Pian piano Allora Dato che stiamo perdendo Un sacco di soldi Voglio tirar giù Diciamo Il bilancio Per La nostra produzione Elettrica E idrica In quanto abbiamo Un sacco di energia In sovra In sovra Produzione E anche la disponibilità Dell'acqua E il trattamento Delle fogne È al massimo Quindi Possiamo Star tranquilli In questo Allora Voglio Che appunto Alcuni arrivino Qui a A vivere Almeno Vabbè Facciamo subito così Almeno Passiamo l'energia A tutti E E appunto Questa Queste cose qua Queste Linee elettriche Appunto Trasferiscono L'energia Da una parte All'altra Della città Quindi Una cosa Anche molto Molto carina Allora Una mod Che ho scaricato E che vi voglio Subito far vedere È questa qua Vedete che qui Ci sono un sacco Di semafori I semafori In questo gioco Sono una cosa Orribile Perché appunto Bloccheranno Un sacco Il traffico E io non voglio Sta cosa Quindi Questa mod qua Mi permette Di toglierli E Ed è veramente Una figata Allora Qui non ci sono Perfetto Ok Da queste parti Ci sono Quindi io non li voglio Mi dispiace Ma Tutti questi semafori qua Io li odio Perfetto E dovremmo essere a posto Almeno tutte le nostre macchine Andranno In Andiamo sulla Vespa Voglio andare sulla Vespa Un'altra mod Che ho scaricato È questa qui La first person mod E Andiamo sulla Vespa Adesso Guardate che figata Ah Bellissimo Purtroppo Non si può ruotare La visuale Cioè Almeno io non riesco A ruotarla Però anche in sta visuale qua Sarebbe bellissimo ruotare Magari girarsi Da tutte le parti E E vedere appunto La nostra città Che si evolve Pian piano Ok Cerchiamo di girare Perfetto Dove andiamo? Andiamo dritti E poi A destra Perfetto Quindi Siamo arrivati a casa Ottimo Ditemi se vi piacciono Queste Queste strade qua Più Più scure Se no Praticamente La strada normale Sarebbe stata di questo colore qua Forse ancora un pochetto Più chiara A me Sinceramente Non è che mi piaccia Poi tantissimo Quel colore lì Quindi Ho preferito Tenere questo colore Più scuro E E creare appunto Più contrasto Rispetto al marciapiede E alla strada Vare e propria Oddio L'acqua non c'è È andata via Perché? Forse dobbiamo Ancora fare questo Tac No Cosa è successo? Manca Ah cacchio è vero Manca l'energia Dobbiamo trasferire l'energia Anche a questi qua Giusto giusto Mi stavo dimenticando Quindi Dobbiamo partire Da questa parte qui E arrivare fino a qua Dovrebbe essere a posto E la stessa cosa Dobbiamo farla qui Quindi dobbiamo creare Queste linee elettriche Per ora Sono ancora monumentane Dato che Poi Pian piano Ok sta andando via Perfetto Ok tutto collegato? Sì Ok Siamo a posto Ehm Appunto Ampliando Tutta sta Tutta sta cittadina qui Poi non dovremmo più Fare queste linee elettriche Così tanto lunghe Per collegare varie parti Della città Ok dai Stiamo Stiamo facendo Crescere la nostra Bellissima cittadina Ah È una figata A me piace un sacco Questo gioco qui Veramente Ho guardato un sacco Di gameplay Su 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 youtube Prima di Appunto Cimentarmi In questo gioco Perché appunto A me piace Un sacco Vedere Gli altri Che giocano Questo gioco qua Soprattutto Youtuber americani Che Che riescono Magari A intrattenere Un sacco Per magari anche Mezz'ora 40 minuti Parlando E giocando Sto gioco Ed è veramente Molto rilassante Penso anche Quindi Allora Abbiamo raggiunto 400 di popolazione E abbiamo Sbloccato Una scuola Elementare Una clinica E una discarica Quindi Saranno Le prime cose Che metteremo Appunto E Dato che Stiamo guadagnando Ancora poco In caso settimanale Solo 350 Non so Cosa sono Dollari No Non sono dollari Soldi Chiamiamoli Soldi Perfetto Appunto Voglio aumentare Un attimo Le tasse Per magari Metterle All'11% E guadagnare Un pochetto Di più Vediamo 500 Ottimo Si Guadagniamo Già Abbastanza Ok Dato che La crescita Cioè La Si Stanno crescendo Appunto Le zone Qui Che vogliono Espandersi Voglio appunto Creare Un'altra Zona Allora Qui blocchiamo Un attimo E Trasportiamo La nostra Linea Elettrica Fino Alla zona Influenzata Appunto Dall'elettricità E Voglio fare altre Stradine Piccoline Magari qui No Ok Perfetto Come vedete Qui ci sono Quattro Quadretti Distanti Per ogni Per ogni Per ogni strada Questo è Praticamente Lo spazio Che Ma Lo spazio Massimo In cui Un edificio Si può Espandere Quindi Ora vi farò Vedere Che si Possono Fare In questo Modo Oppure Anche Delle piccole Caselle Del genere Ora voglio fare Un piccolo Esperimento Almeno vediamo Come succedono Tutte ste cose Ok Appunto Vedrete che In questi Spazietti qua Si creeranno Anche Delle industrie In base Alla Grandezza Appunto Dello spazio Che abbiamo Allocato Quindi Veramente Molto Bello Allora Un sacco Di cittadini Vogliono Entrarne Nella nostra Città Quindi Dobbiamo Soddisfare Un po' Tutte Le loro Richieste Ok Allora Direi Di Espanderci Ancora Fino Qua Creare Creare Appunto Queste strade Qui Che arrivano Fino A questo Punto Qua E Magari Unire Qui Unire Così Ok Allungare Questa Portarla Fino A questo Punto Qua E Magari Qui Faremo Un altro Viale Che ci porterà Fino Alla Giù Guardate Anche Questi Ponti Qua Sono Bellissimi Magari Ci saranno Anche Delle Mode Che Li Modificheranno Però Guardate Proprio Bellissimo Ok Direi Che possiamo Mettere Appunto Queste zone Qua Che abbiamo Appena Creato Intanto Mi sono Accorto Che ho Fatto La zona Storta Vedete Qui Non c'è Spazio Per niente Qui Un blocco E qui Due Quindi Abbiamo Fatto La nostra Cittadina Storta Però Va bene Fa niente Non Capita Nulla Allora Come vedete Qua ci sono Le nostre Industrie Che sono Fuori Dall'influenza Dell'acqua Quindi Dobbiamo Subito Metterle Magari Se facciamo Così Ok Riusciamo A coprire Tutto Stessa cosa Dobbiamo Fare Da questa Parte Ok Vediamo Facciamo Ancora Così E tutta Sta zona L'abbiamo Appunto Coperta Ottimo 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 Allora Facciamo Ancora Una piccola Zona Commerciale Perché Appunto Fare Ste Zone Che Cacchio Che ho costruito Fare le zone Le commerciali In questo momento Ci serve Data che abbiamo Un pochetto Di domanda Ok Possiamo mettere Magari Queste zone qua E anche qui E qui Un'altra zona Residenziale Perfetto Direi Stiamo andando avanti Un sacco Quindi Ora Godiamoci un attimo La visuale Di questa Roba così Vai Ok Siamo in macchina Con Ashlyn Crowley Fighissimo Ok Ora Sta parcheggiando Ok Siamo dentro casa Perfetto Wow Bello 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 Mi piace un sacco Ecco Eravamo su sta macchinina Qui Ok Ok Veramente Oh Ci siamo dimenticati Della discarica È vero Allora La discarica Possiamo metterla Magari da questa parte Qui Perfetto La mettiamo subito E dobbiamo mettere Anche la clinica È vero Mi stavo già dimenticando Tutte queste cose Molte importanti Quindi La clinica La possiamo mettere Magari In questa zona Qui Ottimo Così abbiamo La clinica La discarica E La scuola elementare La metteremo Nel prossimo episodio Penso Così almeno Diamo Tutto il tempo Necessario Ai nostri cittadini Di trasferirsi E Prendere confidenza Appunto Con Con questa cittadina E poi Li istruiremo Pian piano Come vedete Allora Siamo arrivati A 800 E abbiamo Sbloccato la polizia E la caserma Dei pompieri Quindi Nel prossimo Non riesco più a parlare Nel prossimo episodio Appunto Penseremo A quelle cose lì Però Come vedete Vi voglio fare appunto Vedere questo Abbiamo selezionato Questi Questi blocchetti qua E Sono nate Del cisterno In pratica Quindi Qui abbiamo messo Una piccola industria E con industria Già un po' più grande E qui appunto Si stanno creando Delle industrie Già più evolute Proprio perché Tutte le industrie Che mettiamo Sia zone residenziali O commerciali Si adattano All'area Di espansione Che abbiamo Allocato Quindi Questa è veramente Una cosa abbastanza Carina Ok Allora direi che Per questo Questo episodio Può anche finire qua Perché Vorrei tenere gli episodi Lunghi più o meno Una ventina di minuti Così da Oddio Che cacchio è sta cosa Ehm Si se qualcuno Cade di qua Penso si ammazzi Comunque Va bene Lo stesso E Ehm Direi che appunto Questo episodio Può finire qua Abbiamo appunto creato Le prime Strade Ah No io amo Questo gioco Vi giuro Magari mettiamo Qualche dettaglio No non abbiamo ancora I parchi Quindi Dobbiamo pensarci Poi nel prossimo episodio Però Vi giuro In questo In questo gioco qua Si possono scaricare Un sacco di mod Un sacco di assetti Che Ci permetteranno Di creare Tutto quello Che vorremmo E anche delle costruzioni Che In questo momento Mi sembra di non Avere ancora Perché Sono nei parchi Quindi Cercheremo di Sbloccarli appunto Nel prossimo episodio E E vedremo appunto Tutto quello Che si potrà costruire In questo Fantastico gioco E niente Noi ci vediamo Con il prossimo video Ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.